ciao oggi faremo un video bellissimo di abilità e di velocità abilità perché non vi dovete imbrogliare con la palla ok ruota appoggio la palla l'altra compagna arriva appoggio la palla e ruota vabbè fate meglio a farglielo vedere che capiscono meglio è buio troppo buio letti pronte via vince la squadra di letizia arianda perché amelia ha avuto la defiance fa la ruota no mentre fa la ruota ok seconda manche pronte vince la squadra di letizia arianda due volte ma voi avete capito come fa facciamolo una volta facciamolo ancora una volta solo per voi due per favore grazie pronte via pronte pronte le vincitrici speriamo questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri i allora è Ciao!